Non si arrende Giancarlo Carpiani, ex consigliere di quartiere di Villa del Fuoco. Dopo 38 anni ha chiuso il minimarket che aveva in zona a causa della crisi. Da due anni ha fatto i lavori più disparati e ora ha una bancarella all'aperto tra la via Tiburtina e il via Lago di Capestrano a Pescara. Giancarlo ha un sogno che si sta per concretizzare e ripristinare una sezione dei City Angels a Pescara. Cerca volontari e adesioni già ci sono state ma il gruppo deve crescere ancora. La sua storia è stata raccontata dal quotidiano Il Centro e da Cinzia Cordesco. Noi lo abbiamo raggiunto proprio dinanzi alla sua bancarella. City Angels è una sezione internazionale che sede in Milano. Mi ha sempre appassionato il loro lavoro, la loro prestazione per la strada e quindi io insieme a degli amici vorrei ricostruire questa sede qui a Pescara. Invito appunto alle persone volontariose, il volontariato, che vogliono aiutarmi, vogliono partecipare e vogliono ricontattarmi e poi vediamo cosa si può fare. Giancarlo cerca volontari non solo per il quartiere di Rancitelli ma anche per altre zone difficili di Pescara. Tu prima mi hai detto queste due sedie ti fanno un po' da salotto perché qui vengono le persone, vogliono parlare, chiedono una mano, un aiuto, un consiglio. Sì esatto, soprattutto parlare. Parlare perché molte persone che stanno peggio di me hanno bisogno proprio della pacca sulla spalla, hanno bisogno del sorriso. Non dobbiamo sostituire i carabinieri e la polizia perché loro fanno un buon lavoro quotidiano. Io il progetto per il qualifico quartiere ce l'ho. Per esempio, ecco, qui sono stato una vittima. In questa zona non sono più attività commerciale, sono spariti. Sono soltanto dei circoli, però non sono più attività commerciale, né sociali, né sportive, né politiche. Automaticamente si va a ghettizzare sempre di più. La speranza di Giancarlo sta proprio in questo, nella volontà di integrazione delle varie etnie per restituire dignità alle persone per bene che abitano in queste zone e strappare soprattutto i più giovani alla criminalità. Tu ovviamente vivi, immagino, non nell'oro, hai delle difficoltà, ma chi te lo fa fare ad attuare questa iniziativa per gli altri? È il cuore, già mi sto miotanando. È il cuore, è più forte di me. Vedere qualcuno che si avvicina e chiede aiuto per me, cioè non mi interessa quando è in casa, però mi interessa più socializzare, ricevere le persone, aiutare le persone. Questo quando vado a dormire la sera mi dà una grande gioia.